Uno, via. Riccardo, quanta paura a Matera? Tantissima paura quando abbiamo visto Mendicino a terra. Io ero a casa perché non si è potuto andare in trasferto e l'ho seguito la partita dalla televisione. E quando abbiamo visto il ragazzo a terra che non respirava, veramente abbiamo avuto tantissima paura perché sembrava di vedere il caso Morosini. Poi con l'ambulanza che non arrivava, ho corso in ritardo, veramente abbiamo tremato all'idea che poteva succedere anche qui, purtroppo quello era successo in altre parti. Però alla fine è andato tutto bene, il ragazzo si è ripreso, mi pare che sia uscito addirittura dall'ospedale stamattina e quindi tutto è andato bene. Però auguriamoci che in tutti i campi, in tutti i settori dello sport ci possano essere questi benedetti defibrillatori che sono utilissimi e necessari affinché si possano svolgere attività colistiche. Da sottolineare però in questo evento, che poteva essere tragico, non lo è stato ma quasi, la vicinanza tra le due tifoserie, quelle di Salernitana e Matera, che si sono confrontate anche attraverso un lungo applauso liberatorio. Questo è stato un gesto bellissimo, ci aspettavamo da parte dei materani un'accoglienza calda e in effetti così è che è stata. Si è girato per la città tutta la mattina, almeno so che chi è stato a Matera ha girato per la città tranquillamente senza nessun problema, senza nessun fastidio. E poi c'è stato questo applauso che veramente ha unito le due tifoserie. Non ce n'era neanche bisogno di dirlo, però sono due città molto molto sportive e hanno dato il meglio di se stessi. Uniconeo però, alcuni striscioni che non sono stati fatti entrare da parte della Questura nello Stadio 21 Settembre. Che è successo al riguardo? Guarda, è un problema strano perché alla fine i nostri striscioni sono un genere di inneggiante a qualcosa. C'era lo striscione del centro coordinamento con la scritta nostra, c'è un altro striscione di Baronissi Granata, un altro striscione di Giordano e altri striscioni ma tutti striscioni assolutamente puliti e impeccabili. Non si capisce perché di questo problema perché poi in altre città non c'è mai stato questa cosa. C'è la legge che prevede che potrebbero farlo aprire davanti allo Stato e controllare e su questo non ci piove. Però addirittura fare il sequestro allo mi sembra proprio un eccesso da parte della Questura materana incredibile. Passando al dato tecnico, ti ha convinto la formazione di Menichini? Beh, sì, è stata una bella cosa, ha messo su bene la squadra, ha fatto bene i cambi e quindi stavolta dobbiamo fare un applauso a Menichini. Battuta finale per quanto riguarda i tifosi. Adesso sulla SportTube, il canale della Lega Pro, ha stabilito una sorta di gradatoria tra le varie tifoserie, o meglio le curve, delle varie formazioni di Lega Pro appunto. In questa speciale gradatoria al momento la Salernitana sembra essere prima con circa 2.400-2.500 voti, seguita da Lecce da circa 200-150 voti in meno. Cosa ne pensi? È un dato di fatto che dimostra grande maturità e attaccamento alla maglia di questa splendida tifoseria. Penso che alla fine non avremo rivali perché nessuno può competere con la tifosia salernitana. Grazie.